Attenzione, voilà! Mamma! No, no, continua a giocare. Fa come se non ci fossi. Se il rosso sta registrando... Ah, ben con... Ma vai tirare alla risorsa! Andy andrà al college. Mi sembra impossibile. Mamma, non partirò prima di venerdì. Che ne vuoi fare di questi vecchi giocattoli? Non capisci? Siamo finiti, obsoleti, siamo in declino! Ragazzi, lo sapevamo che questo giorno sarebbe arrivato. Verremo buttati via? No, nessuno verrà buttato via. Non gioca mai nessuno con noi. Calma, non è il momento di essere isterici. È il momento perfetto per essere isterici. Dovremmo essere isterici! Sì, forse! Ma non adesso. Su, vediamo quanto ci quotano su eBay. Finalmente qualcuno giocherà con me! Dov'è il mio naso? Eccolo qua! Qui c'è un braccio! Dammelo, io! Stesano, i miei baffi! Per resettare il vostro Buzz Lightyear, inserite una graffetta. Rex, usa il dito! Hai aggiustato Buzz? Sì! Itacara, espandiamo! Eh, più o meno. Oh, Slayer al recante! Oh no! Oh sì, il ritorno dell'astro mazzo!